Musica Bella a tutti ragazzi, qui è Bazzu che vi parla E oggi siamo ritornati finalmente dopo secoli, decenni, anni, millenni Su Vampire Saga Questa musica è altamente inquietante Comunque Serve la chiave Ti va bene anche un cacciavite? Potresti... No Non potresti scassinare Non capisco se quando vedi queste cose è una sua droga mentale È il film che stanno proiettando al cinema ma dalla parte sbagliata Oh boh Qua è morto qualcuno Il fantasma di prima è morto C'è qualcosa sotto il sangue Usa del detergente Ah, vuoi filo? No? Ah, ecco Carta fotografica E se noi prendessimo... No, non succede nulla E se io prendessi... Della... Lasciami fare Della carta fotografica La mettessi qua e la c'è? No, no, non si può cedere No, ma no, che scemo Dammi il cacciavite Come non succede nulla C'è un cacciavite e non succede nulla Cioè ci sono più viti qua Che in tu... Ago e filo? Qualcuno? Ago e filo? No No C'è sempre sto rumore inquietante Di gente che cammina Ma io esattamente Della carta fotografica Che cavolo me ne faccio? Cacciavite Magari può... Che cavolo ne sai Lì a parte il ratto che cammina Voi riuscite a capire cosa bisogna... Ago e filo? Carta fotografica? No, aspettate Qualcosa è andato storto? Non è così che si usa quell'oggetto Prima era venuto fuori con la carta fotografica Devo pulire il sangue Ho capito, ma non è che... Sono un supermercato fuori casa io, eh Ho risolto Ho rimesso il microfono a posto C'era soltanto un piccolo problema Esploriamo instabotte qua Che cosa potrebbe servire? Apri C'è un corno C'è una cosa enorme nell'acqua Carta fotografica? Ago e filo? Magari fai la canna da pesca? Cacciavite? Non succede nulla Credo, raga... Ah No, è un razzo Che cavolo ne faccio io? Torna su Capite, ma... Devo usare un razzo? No, non è lo sceriffo della zona No 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 Non è lo sceriffo della zona, eh Non è lo sceriffo... Bestia Che camion dei pompieri è sta roba qua? C'è più roba qua che in un supermercato O anche con i mercatini di oggetti usati Bidone dei rifiuti Beh, credo sia questo Tre corde Una C'è mio fratello di fuori dalla porta Quindi si sentirà Due Non c'è la terza Dove la vedi? Scusate, ma se voi vedete una terza corda Scrivetelo nei commenti Vabbè Due lucchetti Uno Secondo C'è C'è sempre problema È come col decimo delle squadre Il decimo mancante Cioè Non capirai mai Aspettate Che sbagliata Ok Non lo trovi È impossibile Non puoi mai trovare la seconda volta Un oggetto Vabbè Guanto Uno Cioè l'unica cosa in cui te ne servono due Ne prendi uno Prendi in giro Guanto Casco E come l'ha fatto a tirarlo fuori da lì? Nessuno lo saprà mai Due corde Ma scusate voi dove le vedete sti diamini di corde? Manopola della va Ma che manopola della va Una pipa Serve Scala Torcia 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 No Non è una torcia Non vedo la torcia ragazzi È un casino assurdo Non capirò mai Questo gioco Torcia A caso eh Un orologio Beh è questo qua Spazzo Maldigo Mi è venuto a Io improvviso un maldigo No questa è una sega Ma non serve Spazzo Scopa Cioè se tu vuoi trovare una spazzola No trovi la scopa Cerchiamo una spazzola Ho trovato le corde No ma non è possibile No ma non è possibile Hai fatto apposta Voi non cercate la spazzola Cercate il lucchetto 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 Spazzola Lucchetto L'ho detto Voi non dovete cercare il lucchetto Dovete cercare tutt'altro Quindi è qua È qua Like Subito Se non metti like Vengo a casa tua Te le faccio trovare a te Ste cose Manopola della valvola No Tu fai finta che devi trovare Un Un orliere In ceramica Dell'olio Carli Vedete L'oliera In ceramica Dell'olio Carli Sarà qua Da qualche parte Tipo Ma si tipo qua Qua da Ste parti Ma dove cavolo mi porti È qua Ragazzi L'oliera dell'olio Carli Guardate là L'ho trovata L'ho trovata Se tu stai fermo Col mouse Non lo muovi da sole Questa qua L'oliera Allora Voi Vedete per caso Una manopola Per valvole Io Sinceramente No Non so Voi Ma io Di manopole Per valvole Non ne vedo Adesso Non metterò Cliccare Tutti Gli Oggetti Tu Non muovere Il mouse Perché ti picchio Oggetto Qualcosa Che potrebbe Essere No Questo Qui Ragazzi Sono sicuro Quella roba lì Ma dove mi porta Sei Stupido Non è possibile Dov'è Questa No come no È una manopola Per Cosa ho cliccato Prima Hai trovato qualcosa Che ti tornerà utile No perché Tutto l'ambaradam Di prima Non mi tornerà utile Cioè se non mi torna utile Tutto quello Che ho preso Prima Chiudo il video E Ve ne vado Non è possibile Non Ho capito Io voglio Uscire Manopole No Cacciavite Capito Ago e filo Ma sciopa Posso tornare Indietro Ragazzi Qua non mi sembra Una buona idea Andarci La creatura Interpolata È ora Di iniziare A credere I vampiri Travare Dell'acqua santa Sapete dove si trova Dell'acqua santa Secondo me È tutto sul retro Questo qua Il retro Quindi Boh Andiamo dentro qua Una monopola No Magari La monopola Potrebbe servire Per questa roba qua Carta fotografica Ago e filo Cacciavite No Forse Manopola No Carta Non riesco a capire Cosa fare C'è Mi sape Se usassi la luce Lo sapessi Di fare Le foto Se usassi La luce Non mai Avvenirei Negativi Pure per forza C'è C'è Un metodo Ed è Adesso sta tutto qua Devo riuscire a capire la soluzione Aiuto E ci Devo andare indietro Cavolo Di aiuto Che cavolo torna indietro ragazzi vi giuro che non ho capito niente voi avete capito qualcosa a presto